È passato quasi un mese dalla nascita di Ilari. Eccoli qua i miei due amori! Qui c'è Brandon, che ha le prese con la sorellina, che dorme. Svegliamola! Ilari era l'anello mancante, ora ci sentiamo al completo. Cosa è la pappa, tu? Cosa è la pappa? Senti, qua. Avevo timore al pensiero di dover rimanere a casa da sola con due bimbi piccoli e invece siamo un'ottima squadra. Va tutto alla grande. Brandon! Cerco di dare sempre attenzioni a Brandon. Fai cara alla sorellina? Cara! Credo di esserci riuscita. Piano però, eh? Oh, il bacino sulla manina! Brandon è rimasto il bambino di sempre, anzi è diventato ancora più affettuoso. Siete bellissimi! E tu sei super, super, super tenero! Io come mamma sono super felice. Ilari ha fatto davvero svanire ogni dolore, ogni dispiacere che avevo dentro di me. Anche il rapporto tra me e Andrea è migliorato tantissimo. Mi ha chiesto di sposarlo, io mi aspettavo che lo facesse in grande e invece mi è piaciuto tantissimo il modo in cui me l'ha chiesto perché noi siamo questi. Mi sento amata, mi sento coccolata nella mia famiglia. Eccolo zio! Mi lo richiamo a mamma, mi lo richiamo a mamma. E questo mi dà la forza e la voglia di fare un giorno quello che faccio. Spero che sarà sempre così perché siamo felici. Salutate! Ciao ciao! 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 Ciao!